ok, qua selezioniamo io ho messo un milione qua mettiamo l'indirizzo internet del post che vogliamo, tra virgolette aumentare i like schiacciamo anche qui ok, copiamo il codice andiamo sul nuovo post che abbiamo fatto dove abbiamo messo le X andate su HTML cercate le X eccole qua le nostre X le selezioniamo e le sostituiamo col codice che abbiamo copiato torniamo lì e adesso ok, facciamo aggiorna e andiamo a vedere ecco, questo è un milione di like questo è il post che io ho copiato da Facebook qua c'è il vero indirizzo internet del post e qua invece c'è il nostro like modificato con un milione ok, va bene tutto qua ok, va bene grazie a tutti grazie a tutti